parlaci del tuo personaggio in questo film allora ciao al blog del cinema di my style ciao a tutto my style scusate in inglese ma questo è il massimo che so e poi sono pure Warner Village queste cose qua in inglese so il personaggio si chiama Angelo Zingoni è un precario perdente e poi nell'arco del film c'è stato un rivoluzionamento di tutto quanto e diventerà un po vincente ma non vincente diventerà una persona con grandi sentimenti con una fratellanza con Coromolo è così insomma nella vita qual è la scena brutti e momenti belli la scena la scena più divertente che ha girato se ce n'è stata una con quei signorini che tu hai visto è stata bellissima no la scena più bella è quando chi fa il film lo vedrà quando esco dal carcere e che passeggio per Roma con la canzone sotto di Nengoni veramente una cosa forte per noi romani ma per tutti quanti Roma è bella per tutti lì è stata una cosa molto emozionante altri progetti cinematografici in vista ma partiamo in marzo con un altro film si chiama mia cognata è una strega sempre con Enzo Salvi sempre con Enzo Salvi cerchiamo di consolidare questa amicizia più che coppia perché coppia poi sembra che l'amicizia e vediamo di portare a casa qualcosa di buono l'ultima cosa fai un invito a tutti a vedere questo film vi aspetto tutti al cinema a vedere una cella in due e ma proprio se non ci avete niente da fare ci vedete una cosa meglio fatela vi auguro che cose belle a tutti che è la cosa più importante grazie grazie grazie